Bene, prima di iniziare a scrivere il codice, quindi prima di iniziare a progettare il nostro sito con HTML e CSS, è bene progettare la pagina del sito o su carta oppure con dei programmi di grafica. I programmi di grafica possono essere Photoshop, Illustrator o Sketch. Dobbiamo quindi progettarla a monte. Ora, come abbiamo accennato prima, in questo corso andremo a creare un portfolio. Nel... in questo sito portfolio, quindi il nostro portfolio online, avremo alcune pagine. Avremo la pagina della Galleria dei Lavori, sarebbe la home page. Abbiamo una pagina di About, quindi dove descriveremo noi stessi. E avremo una pagina Contacts, quindi dove inseriremo i nostri contatti. Ora, andiamo a vedere come possiamo creare la pagina home page. Quindi iniziamo, come abbiamo detto, da cellulare, quindi a creare la nostra versione per smartphone. Possiamo mettere in alto il ladder, quindi il titolo e un sottotitolo. Ad esempio posso scrivere il nome a Fratesi e al di sotto Web Designer. Al di sotto mettiamo un menu di navigazione, con appunto scritta Homepage, Contact e About. E sotto metteremo la lista dei nostri lavori, quindi ad esempio delle immagini, a cui inseriremo il link ai nostri lavori. E sotto metteremo il footer. Inseriremo quindi, ad esempio, il nostro link a Twitter e a Facebook. Ora passiamo alla versione per tablet. La versione per tablet è più o meno simile. Abbiamo sempre un layout a due colonne. E quella per desktop, come vedete, cambia un po' di più. Abbiamo spostato il titolo e sottotitolo a sinistra e il menu di navigazione a destra. E abbiamo creato un layout a tre colonne, che si addice ad uno schermo più grande. E al di sotto sempre il footer. Per quanto riguarda invece la pagina About, vediamo la versione mobile, in cui inseriamo al di sotto del menu la nostra foto, la nostra foto che in questo caso la possiamo fare in rotonda, e al di sotto la descrizione di noi stessi. E al di sotto sempre il footer. Per quanto riguarda la versione desktop, come vedete, l'header è come l'avamo fatto prima, lo lasciamo uguale. E mettiamo con un layout a due colonne la foto e la descrizione. Più o meno la stessa cosa lo possiamo fare per la pagina Contact. Mettiamo appunto una descrizione di come vogliamo essere contattati o comunque altra cosa, in alto, e al di sotto mettiamo numero di telefono, mail, indirizzo Twitter e così via. E per quanto riguarda la versione desktop, anche qua un layout a due colonne, con appunto descrizione a sinistra e numeri a destra. E una volta fatto questo, possiamo andare a scrivere il nostro codice. Se volete imparare a creare una buona user interface, potete fare il corso di Matteo Catalano sulla user interface, come creare una landing page utilizzando Photoshop. Photoshop è un programma molto utile per progettare una pagina web, e vi consiglio molto di farlo. Ora, fatto questo, prendiamo avanti e iniziamo a creare il sito.